Dalla Gran Bretagna a Palma di Montechiaro per il giorno più importante della loro vita. Susan Violet Stevenson e Reginald Brian William Freeman hanno scelto infatti il Palazzo Ducale dei Tommasi di Lampedusa per il loro matrimonio. La cerimonia è stata celebrata ieri e a unire in matrimonio due giovani inglesi il sindaco Rosario Gallo. Hanno scelto di sposarsi nel piccolo centro dell'Agrigentino, come ha spiegato la neosposa, perché sono rimasti affascinati dalle bellezze della Sicilia e della sua gente. Emozione tra i circa 50 invitati, tra amici e parenti, in particolare per la mamma dello sposo. Subito dopo la cerimonia amici e parenti hanno brindato sempre all'interno del suggestivo Palazzo Ducale. La Sicilia ha un grande cuore, abbiamo tanti difetti ma il cuore non ci manca. Non è la prima volta che Palma di Monte Chiaro viene scelta da stranieri per coronare il loro sogno d'amore. Il fascino del paese del Gattopardo infatti è diffuso ormai in tutta Europa.